sì mi sta sfuggendo di mano oggi parliamo di pinpoint pinpoint che cos'è un pin è uno spillo o una spilla quindi qualcosa che è pinpoint è un qualcosa di veramente veramente piccolo grande quanto proprio la punta di uno spillo però attenzione possiamo anche usarlo per indicare qualcosa che è assolutamente preciso al millimetro this weapon can hit targets with pinpoint accuracy quindi quest'arma riesce a colpire i targets gli obiettivi with pinpoint accuracy con una accuratezza al millimetro è proprio precisissima se lo usiamo come verbo vuol dire localizzare con esattezza poi vuol dire determinare e individuare see if we can pinpoint where johnny was killed ok quindi vedi se riesci a pinpoint a localizzare con esattezza dove è stato ucciso johnny stampate chi se lo dimentica più it's difficult to pinpoint the cause of the accident ok è difficile determinare to pinpoint determinare con esattezza la causa dell'incidente ed ora divano time ciao 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 Grazie a tutti